Si potrà votare fino al 14 novembre Cbet, il progetto europeo dedicato all'efficientamento energetico nell'edilizia a cui ha partecipato l'Istituto Erasmo da Rotterdam di Nicholino e che è entrato nella rosa dei finalisti del prestigioso premio Regio Star 2023 nella categoria Anno Europeo delle Competenze. Cbet sta per Cross Border Energy Training ed è un progetto Alcotra. I ragazzi dell'Erasmo da Rotterdam hanno raccontato la loro esperienza insieme con la preside, gli insegnanti, i partner del progetto e con la consigliera metropolitana alle politiche giovanili Valentina Cera nella sede della città metropolitana. Questo progetto Cbet, finanziato appunto nell'ambito dei finanziamenti europei Alcotra, è nato nel 2020 e ha coniugato due aspetti molto importanti, cioè l'aspetto teorico, ciò che i ragazzi hanno imparato e appreso sui libri, con quello pratico. I temi principali erano la bioedilizia, l'efficientamento energetico e la sostenibilità. Praticamente è stata costruita una casa che è proprio il prototipo di quella che potrebbe essere la casa di agenda 2030, dove c'è un efficientamento energetico al 100% e dove si riduce sostanzialmente la produzione dell'idea carbonica. Ma devo ringraziare tantissimo i docenti, i docenti che sono proprio l'anima propulsiva perché proprio l'idea è nata dai docenti del CAT, costruzione, ambiente e territorio, l'indirizzo che abbiamo, uno degli indirizzi che abbiamo nel nostro istituto. E poi ci sono stati anche i ragazzi che hanno accolto con tantissimo entusiasmo questo progetto. Io sono partita nel 2018 con questo progetto studiandolo sui banchi di scuola, dove ho studiato esattamente come installare un cappotto termico, posizionare un pannello fotovoltaico solare. E poi sono riuscita, sempre con la professoressa Seren Rosso, a fare una trasferta di alternanza scuola-lavoro a Chambery in Francia, presso un ente pubblico chiamato INES, dove esattamente abbiamo a mano, proprio praticando, abbiamo installato un cappotto termico in una struttura, coibentato una casetta in legno. Questo mi ha portato ad avere una grande passione per questo lavoro, per questo studio. Questo progetto ci ha portato da un livello di studio a un livello pratico, quindi a passare dai libri, da studiare i libri, a lavorare in cantiera, a provare come fare il cappotto termico, come montare un pannello fotovoltaico sui tetti. E questo ci ha anche aiutato a capire come poter migliorare il nostro futuro.